L'Unione Sportiva Ponte Sasso organizza anche quest'anno la Festa del Mare, dove e quando si svolgerà l'evento? L'Unione Sportiva Ponte Sasso anche quest'anno organizza la Festa del Mare il 9, 10, 11 e 12 agosto, con inizio circa alle 19 e si svolgerà presso il Centro Sportivo e Sociale di Ponte Sasso. Qual è il programma previsto? Il programma previsto è standard astronomici, musica dal vivo, poi c'è importante un ampio parco per i bambini, tutto a ingresso libero, tutto aperto, sono due ettari di superficie in cui tra impianti sportivi, parco e quant'altro, diciamo una struttura tutta sotto il verde, sotto l'ombra, sotto il fresco. Quindi anche per gli amanti dello sport? Anche per gli amanti dello sport c'è anche un campo da padel di ultima costruzione, quindi se magari qualcuno si vuole sbizzarire è possibile anche giocare a padel. L'ingresso è gratuito e ricavato, servirà per tutte le attività che l'Unione Sportiva Ponte Sasso organizza, da quelle sportive a quelle sociali, oltre alla gestione di tutta la struttura, perché è una struttura abbastanza ampia dove ci sono parecchi impianti sportivi e quindi per la gestione occorre un certo impegno economico.